Non possiamo camminare nel sentiere che tu hai tracciato. Ti chiediamo perciò che il corpo e il sangue che tu ci hai donato diventino luce nel nostro cammino e forza, fiatico, perché noi non possiamo venire meno. Signore Gesù, con questa nostra celebrazione noi entriamo con Te nel deserto, digiuniamo con Te nel deserto e troviamo forze in Te per combattere contro il nemico che ci tende. Come Tu fossi tentato, anche noi siamo tentati, ma Tu ci hai insegnato a combattere, a combattere con la parola di Dio. Ci hai insegnato a vincere nella forza che viene dalla parola di Dio. Signore, vogliamo entrare con Te nel deserto, vivere con Te nel deserto, imparare da Te e con Te vogliamo uscire dal deserto. per combattere con Te la nostra missione. Benedicici questa sera, benedici questo popolo che entra nel cammino quaresimale e fa che tutti possiamo camminare speditamente alla luce della Tua parola e con la forza del Suo tanto Spirito. Lode e gloria a Te, Signore. E quel Signore ci dice di ascoltare il Suo invito e la Sua parola e di mettici in cammino con Gesù. E allora, fratelli e sorelle, buon cammino quaresimale. Camminiamo con Gesù. Invochiamo anche l'aiuto della Madonna perché la Madonna ci attenga il dono dello Spirito. E' lo Spirito che condusse Gesù nel deserto. Questo medesimo Spirito dovrà condurre noi. Preghiamo la Madonna perché ci ottenga un'abbondante forza dello Spirito. Entriamo nel grembo di Maria, nostra madre. in lei troveremo lo Spirito, troveremo Gesù e attingeremo la forza per iniziare il nostro cammino. Amen. Preghiamo questo sacramento che abbiamo ricevuto Padre che abbiamo ricevuto Padre ci sostenga nel cammino quaresimale. Santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro Spirito. per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso concede a tutti noi come al figlio il nostro prodigo la gioia e la gioia dell'epria e proprio in apertura in apertura il Signore ci ha dato questo testo Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con la venuta di Tito e non solo con la sua venuta ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Grazie Signore per te sei consolato. Viviamo questi inizi di quaresima con intensità. La liturgia di oggi è quella delle ceneri. Ricordati un uomo che se è polvere e in polvere ritornerai. Se uno invita la conversione convertitevi e fate penitenza è in questo clima liturgico che noi iniziamo questa serata. Se vuole essere una serata di preghiera intonata al tempo liturgico iniziamo iniziamo con la benedizione delle ceneri e poi introduciamo la Santa Messa nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Tu ami tutte le cose tutte le Tue creature Signore e nulla disprezzi di ciò che hai creato Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni perché Tu sei il Signore nostro Dio e con questa antifona che iniziamo questa liturgia il Signore è l'amante della vita e per questo non 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 uccide quelli che lo offendono ma li perdona perché chi offende il Signore riconosca il suo peccato e chiede perdono e allora fratelli e sorelle chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati o Dio nostro Padre concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare voi vittoriosamente con le armi della penitenza del combattimento contro lo spirito del male per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio che viveregna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli adesso un momento di silenzio dopo questo momento di silenzio possiamo anche invocare lo spirito del Signore perché ci faccia penetrare l'essenza della liturgia da cui attingiamo la salvezza in modo da celebrare questo inizio di quaresima nella luce e nella forza dello spirito il profeta gioele ci invita ad uscire dalle nostre situazioni comode dove ci siamo adagiati ad uscire vestiti di sacco di cenere di cenere ma uscire e andare incontro a colui che ci chiama nella seconda lettura c'è l'invito alla riconciliazione con Dio in questo tempo favorevole che è il kairos di Dio nella terza lettura quella del Vangelo c'è la vita penitenziale dopo la riconciliazione noi fissiamo per un momento questi tre punti connessi con la liturgia l'invito alla conversione la conversione è un fatto di Dio è Dio che converte noi ma Dio è sempre pronto verso di noi guarda sempre a noi è un Dio che guarda l'uomo e parla sempre all'uomo e sempre con la bocca aperta tutto il giorno come dice la scrittura e che non c'è nessuno che ascolti per cui se è un fatto di Dio per noi è scontato che Dio che ci ama ci invita continuamente ci guarda ci parla ci invita alla conversione cioè ci invita a guardare a Lui perché da Lui viene la salvezza l'invito è rivolto a tutti ai sacerdoti che debbano stare tra il vestibolo e l'altare allo sposo e alla sposa che debbano lasciare la camera inuziale ai bambini ai fanciulli ai vecchi agli anziani a tutti tutti cioè abbiamo bisogno di convertirci al Signore ritornare a colui che ci chiama abbiamo così otturate le orecchie e abbiamo fatto tacere dentro di noi qualche parola che ci è giunta che è filtrata abbiamo indurito il cuore per cui c'è questa scossa che il Signore oggi ci dà convertitevi convertitevi questa voce e conversione risuona sempre nelle scritture cominciando dai profeti convertitevi fino all'ultimo profeta Giovanni Battista che grida convertitevi e fate peritenza perché la scura è già e la radice dell'albero e l'albero che non sarà trovato con frutto sarà deciso e buttato nel fuoco allora ascoltiamo la voce del Signore e guardiamo al Signore che ci chiama questo è il momento favorevole ci dice il Signore nella seconda lettura invita la conversione e invita la riconciliazione con Lui riconciliarci con Lui la riconciliazione con Dio che comporta una vita nuova questa riconciliazione con Dio avviene in Cristo Gesù come detto nel testo e avviene mediante il ministero dei sacerdoti e Paolo che dice noi siamo ambasciatori di Dio per portarvi la parola del Signore siamo collaboratori di Dio nel disturbirvi nell'incanalare la grazia del Signore e per questo grida lasciatevi riconciliare con Dio ascoltate la parola di Dio e mettetevi così in disposizione dell'anima per accogliere la grazia del Signore questo è il momento favorevole noi siamo i ministri sacerdoti sono i ministri della parola e i ministri della grazia attraverso la predicazione scuotano e invitano i fedeli ma attraverso il sacramento della riconciliazione e si riconcilia con Dio è chiaro che la riconciliazione è un fatto di Dio come la conversione però passa attraverso la mano del sacerdote che in quel momento è come Dio sulla terra quello che voi legarete sulla terra sarà legato in cielo quello che voi sceglierete sulla terra sarà sciolto in cielo il sacerdote ha un potere infinito è Dio che usa il sacerdote perché lui soltanto assolve però la grazia passa attraverso le mani del sacerdote che in quel momento è Cristo Signore l'unico mediatore tra cielo e terra ecco allora li invito a riconciliarci attraverso il sacramento della riconciliazione confessando il nostro peccato condannando il nostro peccato e poi introducendoci in una vita penitenziare il colore alla terza lettura le opere penitenziarie entriamo in un clima penitenziale tutta la nostra vita dovrebbe essere una quaresima in preparazione alla Pasqua che è il momento della morte è il momento della risurrezione a vita nuova in Cristo e saper dare così alla vita questo tono quaresimale entrando nell'ordine dei penitenti instaurando tra di noi la comunione penitenziale che diventa poi comunione eucaristica ma prima di essere comunione eucaristica e comunione penitenziale siamo dei penitenti entriamo nell'ordine dei penitenti questo noi lo dimentichiamo molto facilmente cantiamo balliamo dimenticando che la nostra vita è una vita penitenziale dove si può cantare si può giudire perché già siamo salvati in Cristo Signore ma tutto questo comporta che facciamo le opere penitenziali perché siamo in questa valle di lacrime per fare penitenza dei nostri peccati e dei peccati dell'umana famiglia per quella solidarietà che ci lega tutti gli uomini le opere penitenziali a cui ci richiama il Vangelo e che la Chiesa mette oggi davanti ai nostri occhi sono la priera l'elemosina e il digiuno cioè interessano tutto l'uomo nei tre parametri rapporto con Dio preghiera rapporto con il prossimo l'elemosina o carità rapporto con i stessi il digiuno perché tutto l'uomo entra in penitenza questo io vorrei ribadire perché tante volte tante volte a furia di cantare gioire signore ci ha salvato noi dimentichiamo di far penitenza nell'antica assoluzione cioè nella formula di assoluzione che dava il sacerdote fino al concilio poi stata leggermente riformata veniva detto subito dopo ti assolvo tutto quello che tu farai tutto tutto quello che tu patirai nella tua vita sia in sconto dei tuoi peccati anticamente l'assoluzione veniva data dopo una vita penitenziale adesso viene data subito dopo la confessione però questo non esime dal fare la penitenza perché il peccato comporta un riato di colpa e un riato di pena il riato di colpa ti viene assolto dal sacerdote ma il riato di pena resta devi scontare la pena noi siamo così abituati a confessarci e dire ormai sono assolto non ci voglio pensare più mi dico tre patria ave gloria o tre aveva rio cinque salve regina oppure un gloria padre quelle che mi ha dato il confessore e tutto è fatto non è così la penitenza bisogna farla e bisogna farla per tutta la vita soprattutto quando noi abbiamo peccato ecco perché noi entriamo in una comunione penitenziale la chiesa è comunione penitenziale è comunione eucaristica ma comunione penitenziale perché lo sposo divino si rinnova rinnova sempre la chiesa facendola sempre più bella senza macchia essa che è santa e purificata ogni giorno per rendere bella e immacolata la sua cospetto noi siamo la chiesa santificata dal sangue di cristo ma dobbiamo far penitenza dobbiamo cioè pregare usare carità verso il prossimo e digiunare un momento voglio fermarmi su questi tre punti che sono le tre opere penitenziali resta sempre fermo questo concetto che siamo in un tempo penitenziale che nella vita bisogna fare penitenza accettare tutti i mali che ci vengono in penitenza dei nostri peccati e fare delle opere in sconto dei nostri peccati perché il riato della pena non è assolto quello della colpa sì ma la pena bisogna scontarla o in questa vita o nell'altra vita nel purgatorio restando fermo questo ecco allora le tre opere che noi possiamo così avere a disposizione e cioè la preghiera la lemosina e il digiuno per risanare l'uomo nei tre parametri rapporto con dio rapporto con se stesso rapporto con gli altri la preghiera il cristiano deve sempre pregare non è tanto la preghiera pubblica ma la preghiera privata quelle che noi facciamo davanti a dio nella cripta nella cripta della nostra coscienza criptos significa nascosto il segreto ed è lì che tu trovi dio nel segreto del cuore proprio detto nel testo entra nel segreto e il padre tuo che vede e poi il padre tuo che nel segreto allora ti ascolterà dunque il padre tuo dio è nel segreto vede nel segreto tu parla a lui nel segreto chiudendo la porta e nel segreto del cuore dove noi decidiamo del bene del male decidiamo il nostro destino che tu devi incontrarti con dio preghiera personale che secondo il concetto di Gesù l'espressione di Gesù è perenne continua bisogna pregare sempre senza mai stancarsi essere presenti a dio continuamente qualunque cosa noi facciamo facciamola in dio senza perdere la presenza di dio camminare in umiltà alla presenza del nostro dio ce l'ave detto già il profeta michea capitolo testimo ecco quelle che il signore chiede da te camminare in umiltà alla presenza del tuo dio ecco allora la preghiera che deve intensificarsi in questo tempo di quaresima dare più spazio alla preghiera per alimentare la preghiera che è dentro di noi perché ognuno di noi deve diventare preghiera per alimentare questo clima di preghiera questo contatto con dio moltiplicare le nostre preghiere i tempi di preghiera e dell'accoglimento perché siano potenziati i rapporti con dio veramente possiamo sentirci figli con il padre preghiera Gesù dava la dimensione proprio filiale alla preghiera il padre tuo che vede nel segreto ed è nel segreto ti ascolterà il padre tuo dunque è una preghiera fatta da figlio a padre è una preghiera nella intimità allora ci richiamiamo tutti a questo dovere di pregare le preghiere che noi facciamo comunitarie non suppliscono la preghiera personale la suppongono e se la preghiera personale è forte consistente la preghiera comunitaria è alimentata è assicurata ha una base ma se non abbiamo una preghiera personale la preghiera comunitaria come tante volte succede è bella ben fatta ma non fa niente non incide né in noi né negli altri non è costruttiva dalla vita la preghiera vera è quella interiore la preghiera esteriore se si radica nella preghiera interiore procede dalla preghiera interiore allora è una preghiera valida altrimenti è un movimento di labbra oppure un movimento della nostra sensibilità secondo punto l'elemosina per l'elemosina si intende la carità espossessarsi di sé e dare agli altri sono le opere di misericordia le quattordici opere di misericordia sette corporali e sette spirituali soprattutto l'elemosina cioè noi siamo più attaccati al denaro perché il denaro ci dà possibilità di fare quelle che vogliamo spostestarci del denaro e darlo agli altri e rinnegare un po' noi stessi e andare verso l'altro come vuole il Signore ed è quel vero digiuno di cui parleremo ma di cui già ci parla il Signore nel profeta qual è la peritenza che io voglio da voi affingersi mettere il sacco alla cenere sì ma non è questo è sciogliere le catene unique cioè purificarsi dei peccati aprire le porte all'ospite al povero all'indigente aprire la borsa al bisognoso dare del pane agli affamati questa è l'elemosina dare qualche cosa di nostro agli altri questo è l'amore se qualcuno dice Giacomo viene da voi e vi chiede qualche cosa e tu ti limiti soltanto alla parola bene bene ti consoli ma non dai nulla di tuo che l'emosina è questa che conforte è questo che amore è questo l'amore bisogna che si concreti in opere e l'elemosina è un'opera buona che esprime tutta la carità che noi possiamo avere verso gli altri ed è attraverso l'amore dimostrato agli altri che si estinguono i nostri peccati quando Nabucodonosor ebbe la grande sentenza di diventare animale per tutti i misfatti fatti il profeta gli disse fare l'emosina così risconterai i tuoi peccati perché l'elemosina distrugge il peccato cioè il reato dalla pena noi possiamo così con la carità che usiamo verso gli altri soddisfare Dio nel debito che noi abbiamo di 10.000 talenti secondo la scrittura e allora largheggiare con il prossimo non giudicare non condannare il prossimo aprire le braccia il cuore al prossimo non soltanto la borsa anche quella ma aprire il cuore aprire le braccia aprire le mani al prossimo e fare la carità nel senso bello della parola e poi la terza opera il rapporto con noi stessi il digiuno oggi il digiuno è messo in discussione è la stessa Santa Madre Chiesa per venire incontro all'uomo di oggi che non è disposto in questo tempo di consumismo in questo clima di adonismo a rinunciare al cibo e alla bevanda limita al massimo il digiuno oggi è venerdì santo oggi per associarsi a Gesù all'inizio della quaresima per entrare con Gesù nel deserto è venerdì santo per entrare nel clima pasquale e morire con Cristo mentre nel venerdì c'è l'astinenza appunto per unirsi a Cristo che muore si muola nel venerdì però tolti questi giorni di astinenza delle carni il venerdì e tolti questi due giorni proprio ridotti al minimo anche nella forma perché si può mangiare un bel pasta al giorno e qualcosa al mattino qualcosa alla sera e non resta proprio nulla noi non diginiamo più anche nei nostri ordini religiosi prima si digiunava di più la tradizione del vecchio testamento e del nuovo testamento si parla di digiuno fisico è vero che il vero digiuno è quello proclamato da Isaia è quello ribadito dalla chiesa che il digiuno dal peccato il digiuno da ciò che può indurci al peccato però questo non significa che non dobbiamo digiunare Mosè digiunò Gesù digiunò 40 giorni tutti i grandi santi digiunavano San Francesco faceva sette quaresime quando se ne rimanevano il giorno in cui poteva mangiare sette quaresime all'anno e i nostri padri fino al concilio digiunavano nei nostri paesi si chiudevano le carnezzerie non è restato soltanto una a turno per i casi di bisogno oggi invece tutto è aperto si mangia si beve a tutto spiano è tempo di consumismo e di esonismo si è pensata la madonna la quale ritorna al digiuno mentre noi proclamiamo due volte l'anno digiunare e il nostro digiuno è così alla buona un bel pasto al mezzogiorno un pochettino alla mattina un pochettino alla sera la madonna ci dice ehi figli miei digiunate due volte alla settimana a pane e acqua la madonna ci mette a pane d'acqua la madonna così buona così materna verso i suoi figli ci dice digiunate due volte alla settimana a pane e acqua e lei che rivaluta il digiuno che noi abbiamo dimenticato lo ripropone alla madonna lo dimentichiamo noi nell'uso e nei costumi non c'è più digiuno ma la madonna si dice no non andiamo bene perché il peccato è entrato in questo mondo per la gola e deve uscire da questo mondo e da noi attraverso la gola e attraverso il cibo che è entrato il peccato e attraverso la moltificazione del cibo che deve uscire il peccato da noi per questo bellamente sant'ommaso congiunge il digiuno alla castità è uno stimolo un richiamo alla castità la legge che vige nel mistico corpo di Cristo chi digiuna è più inclinato ad essere casto ma oggi che questo precetto della castità è sparito di mezzo agli uomini necessariamente sparisce il digiuno il digiuno rafforza la volontà di astenersi da ciò che non è decito fare se tu sei capace di dire no al cibo no alla bevanda no al caffè no alla televisione poi è più facile per te dire no al peccato a una proposta di peccato se la tua volontà si abitua a questo a rinnegare ciò che è più facile diciamo a poco a poco tu sarai così forte da dire no al peccato e siccome viviamo in un mondo così corrotto dove la seduzione del maligno è così così continua per cui da ogni parte si viene invito al peccato e al peccato di risturia ecco perché si rende più necessario oggi più che ieri il digiuno il digiuno si può fare il digiuno in qualche maniera ma il digiuno è sempre il digiuno digiuno fisico corporeo perché il digiuno del corpo è buona salute tutti i grandi santi che hanno digiunato hanno acquistato salute gli anacoreti che digiunavano spessissimo erano quasi in continuo il digiuno vivevano a lungo cento anni cento dieci cento quindici noi che mangiamo mangiamo ci abbuffiamo poi un colpo e moriamo uno che può prendere tante forme ma è astinenza da qualche cosa e dire no a qualche cosa che ci piace ci sono tante forme di digiuno non vuoi digiunare perché non vuoi debilitarti perché sei così fragile perché appena tu digiuno ti fa male la testa bene ti digiuno della televisione per esempio il digiuno degli occhi durante la guerresima noi fratelli e sorelle del rinnovamento dovremmo chiudere la televisione per 40 giorni non vedete il programma no niente non c'è programma si campa lo stesso si campa lo stesso qualche notizia importante ci verrà sempre comunicata non leggere i giornali per 40 giorni non vedere riviste le quali vanno a ruba e noi pagando le riviste alimentiamo il peccato il peccato sociale ogni rivista che proibita oppure un po' pornografica noi alimentiamo il peccato e siamo responsabili del peccato sociale alimentiamo un commercio più ne compriamo più copie ne vengono stampate disertiamo un po' i bar perché la gente è abituata ad entrare nei bar mangiare cannola e bere in faccia alla quaresima non andiamo al bar per 40 giorni non entriamo ci sono tanti modi di digiunare non ascoltiamo musica non ascoltiamo musica non ascoltiamo cassette tanti modi di digiunare cioè astenersi da ciò che piace per cui il digiuno può prendere tante tante forme e allora questo è necessario per irrobustire noi stessi noi stessi per purificare noi stessi irrobustire noi stessi nella triplice lotta contro i tre grandi nemici la carne il mondo e il demoneo cose sapute e risapute che però dimentichiamo con molta facilità ecco allora la Santa Madre Chiesa ci richiama a queste tre opere penitenziali attraverso il Vangelo di oggi Gesù ci parla di preghiera intima di elemosina e di digiuno fatta nella gioia e allora noi dobbiamo pregare e ballare fare l'emosina e ballare digiunare e farci belle perché il Padre nostro che sta nei cieli veda lui soltanto quelle che noi facciamo non dobbiamo farle per gli uomini ma per lui così noi ci introdiciamo nella Santa Quaresima con questo spirito adesso dopo l'Omelia ecco il segno liturgico le ceneri ricordate che sei polvere e in polvere ritornerai queste parole si debbano ricordare la nostra precarietà la nostra fragilità noi viviamo in un clima di autoesaltazione dell'uomo sia in senso materiale sia in senso anche spirituale e dimentichiamo che siamo polvere in senere tutte le superbie umane saranno ridotte in senere tutto ciò che noi vediamo di bello di grande tutti in senere e la ceneri ci eguaglia tutti ridotti in senere come il santo così il peccatore come l'uomo potente il grande politico il grande scienziato e polvere e cenere la bella donna pomposa tutte quelle che sfilano come modelle cenere fango tutti i bei profumi che sono propagandati attraverso i canali televisivi saranno materia puzzolente questa è la verità cruda perché polvere siamo e polvere ritorneremo la terra che capestiamo noi è un miscuglio è un miscuglio di detriti vegetali detriti animali e detriti umani noi noi camminiamo sui detriti umani la polvere delle strade la polvere delle campagne su tutte mescolanze di detriti vegetali detriti minerali detriti umani ecco i suoi pericotti che ne di milioni e miliardi di gente che non esiste più polvere polvere dalla terra questo noi siamo ecco la nostra superbia come cade e lo spirito va al signore ma il nostro corpo è fragile è precario è terra e allora quel corpo che noi abbelliamo nutriamo che contentiamo in tutte le sue voglie noi facciamo questo perciò che è polvere tutto sarà azzerato ricordati uomo che se polvere in polvere ritornerai e non sono queste idee più o meno accettabili e la nuda e cruda realtà a cui la chiesa oggi ci richiama tra cento anni tutti polvere siamo qua dentro siamo tutto un pugno di polvere e su questo non ci piove tutti fra cento anni siamo polvere e allora e allora facciamo gli interessi dell'anima che non diventa polvere e spirito torna a Dio carica del bene e carica del male e va in paradiso o va all'inferno dobbiamo anche ricordare che sono vissime che spesso dimentichiamo a furia di cantare di ballare di celebrare le cose belle dimentichiamo che c'è l'inferno c'è il fulgatorio e c'è il paradiso questa è la predicazione terra terra che prima si faceva o non si va più ogni tanto ricordiamo tutte queste cose che ci venivano detto una volta oggi che parla più del paradiso mai abbiamo fatto noi predica sul paradiso cosicché non esiste predica sull'inferno sono più rare predica sul purgatorio invece facciamo belle prediche sono dei ricordi di Dio buono tanto giustizia non ne valevo mai i giudizi di Dio questo non lo parliamo non lo diciamo mai quale tremendo giudizio noi avremo eppure questo è il Vangelo dobbiamo noi praticare il Toto Vangelo tutto il Vangelo non soltanto quella parte che ci più ci aggrada tutto il Vangelo tutto il Cristo tutta la predicazione di Cristo e allora fratelli e sorelle io non mi dilungo ma ho voluto un poco così dilungarmi perché non c'è stata la preghiera adesso noi faremo l'imposizione delle cenere ricordandoci tutte queste cose e chiedendo al Signore di avere pietà di noi e impegnandoci a vivere una buona quaresima convertendoci al Signore questo è il tempo favorevole riconciliandoci con il Signore attraverso il sacramento della penitenza e conducendo una vita penitenziale entrare nell'ordine dei penitenti entrare in comunione penitenziale tra di noi chiediamo al Signore di comprendere queste cose sia Spirito di Dio che abbiamo invocato facci comprendere tutte queste cose e metti dentro di noi il seme della Tua luce della Tua forza della Tua grazia senza di Te nulla noi possiamo amore Egli è sopra di noi ed è dentro di noi tutto da Lui procede e tutto da Lui ritorna è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo in Lui siamo diventati figli e abbiamo con Lui lo stesso Padre e a Lui che ci rivolgiamo come il suo figlio ci ha insegnato e diciamo insieme di noi che ci rivolgiamo che ci rivolgiamo che ci rivolgiamo